sempre concentrati per gli obiettivi. Ma mi dici come si fa a fermarti? Sì, le ultime settimane ho avuto qualche problemina fisico, però non mi volevo fermare, come hai detto tu, però so che a volte bisogna riposare un po' di più per poi stare meglio, perché giocare quando non sei al 100% è sempre difficile. A chi la dedichi questo vettore? A mia moglie, perché è incinta e aspettiamo il terzo bambino, che è maschio, dopo due femmine. Complimenti, ciao! Il 21.42, il Nito delle Aguile, siamo su Radio Roma Futura, siamo in diretta e lo facciamo con il nostro amico Federico Colossimo, capitano della Lazio Nuoto. Buonasera Federico. Buonasera a tutti, ben trovati. Bene Federico, ci siamo lasciati la volta scorsa che avevate appena vinto il derby, ci risentiamo dopo, anche se c'è stata la partita a Firenze, dopo che la Lazio Calcio ha vinto il derby, insomma quest'anno da questo punto di vista è andato bene, no? Sì, sì, il derby era il 26 maggio, il famoso 26 maggio che non andavo allo stadio al derby, invece un mio amico mi ha convinto a riandare e diciamo che non poteva esserci occasione migliore. È stata veramente una grande vittoria, invece ieri c'è grande rammarico perché secondo me avremmo potuto, no, secondo me forse tutti quelli che hanno visto la partita hanno visto che insomma avremmo potuto chiudere sicuramente il primo tempo almeno sul 2-0, e invece purtroppo nel secondo tempo abbiamo subito il ritorno della Fiorentina, siamo stati un po' poco cinici sotto porta, abbiamo avuto anche un po' di sfortuna secondo me perché comunque anche l'infortunio di Caicedo nel riscaldamento a mio avviso ci ha un po' penalizzato perché magari avrebbe potuto dare una mano in più in attacco e niente, peccato perché ieri era una chance importante visto anche il successo dell'Inter, dell'Atalanta, oggi per l'ora della Roma, quindi purtroppo è così, ci rifaremo. Sicuramente. Siamo slasciati la volta scorsa con il discorso oltre delle belle notizie, sul discorso della piscina della Campadella e c'era poi in previsione il sedino al Campidoglio. Come è andata? E' andata bene, nel senso che in quell'occasione sono state raccolte, per quell'occasione sono state raccolte oltre 1500 firme, non solo da atleti che militano nella Lazio Nuoto, ma addirittura è stato istituito un comitato di quartiere della Garbadella per protestare contro questa incenda e tantissimi abbiamo trovato consensi e vicinanza in tantissime persone. Poi so che la mia dirigenza è stata ricevuta tre giorni più tardi al Campidoglio, alla presenza anche di diversi giornalisti e il comune ha addirittura ammesso di aver sbagliato quantomeno alcune delle credenziali del bando, però ha ritenuto che non fosse opportuno tornare sui propri passi, quindi il bando ormai è scaduto, le offerte sono state presentate, sappiamo che tantissime società, anche alcune potenze del nuoto e anche della palla nuoto, per rispetto nei confronti della Lazio non hanno partecipato al bando, questo per far capire che c'è ancora chi crede nei valori dello sport, chi rispetta una storia e chi rispetta anche una gestione secondo me egregia di quell'impianto e di quella piscina che veramente è un fiore all'occhiello della società. Comunque andrà a finire, io spero nel migliore dei modi, con la Lazio che riuscirà a mantenere la piscina e con la società che potrà continuare a far fare sport agli atleti e anche a persone più bisognose di noi, comunque andrà a finire, comunque si creerà un grande danno alla Lazio economico, perché comunque la Lazio per partecipare al bando si è dovuta adoperare nel senso che ha dovuto formulare un'offerta da quello che so io 5-6 volte superiore rispetto a quella al canone attuale di locazione e poi lì non è che è una piscina privata, non ti può permettere il lusso e dire no, la quota, la retta annuale costa X o costa Y, là ti devi giustamente attenere a degli standard, però sono tutte risorse che non entrano in tasca della società ma servono per fare sport che verranno sottratte comunque eventualmente alle varie discipline. Questa è la migliore delle ipotesi, l'ipotesi che noi a questo punto ci auguriamo. Poi leggevo dall'articolo che sta sul sito ufficiale della Lazio Nuoto, di questo incontro, che nell'offerta tecnica dei 70 punti solo un massimo di 5 sono destinati a chi promuove Esattamente, 5 per chi promuove questa attività e addirittura 3 per chi promuove uno sport agonistico ad alti livelli, hai una squadra di Serie 1 nel massimo campione di pallannuoto, hai il settore natatorio ad alti livelli, hai il sincronizzato, hai avuto i tuffi con atleti che fanno le limpiadi, 3 punti su 100. Va contro il valore dello sport e va contro anche quello che finalmente dopo, anche se in minima parte, sta provando a creare anche il coni, nel senso lo sport nelle scuole, l'importanza dello sport anche per i bambini e tutto quanto, invece appunto per il comune di Roma evidentemente non è importante chi fa sport ad alti livelli e ci viene detto addirittura, vabbè ma tanto lì si continuerà a fare nuoto, grazie a una piscina, e tu diciamo all'atletica non la possiamo fare dentro una piscina, però è così che dobbiamo fare, siamo rimasti abbastanza libidi perché appunto sentire anche le parole dell'assessore o del presidente dell'Assemblea Sport Capitolina e dire che comunque le credenziali del bando sono sbagliate, quello ti fa capire che tornare indietro a mettere le proprie colpe nella vita non è né reato, anzi a volte può essere sinonimo di intelligenza, invece purtroppo non si è voluto tornare indietro. Ti sei risposto da solo, a volte sì, è proprio così. Se ammette che il bando è sbagliato e poi non fa almeno correzioni in corsa, non è la persona che lo dice. Sì sì, anche perché voglio dire, almeno si poteva dire no, il bando lo facciamo perché è giusto che sia così, perché va fatto il bando e tutto quanto, però lo rifacciamo con delle prerogative, con dei punteggi assolutamente diversi, qua ci troviamo di fronte a solidarietà che con tutto rispetto, con rispetto a Arlando non hanno né arte né parte, però magari offrono un canone di locazione di 10 mila Euro al mese solo ed esclusivamente per prendersi la piscina e poi magari fare altre attività, oppure quello che vogliamo far capire noi è che noi non è che riempiamo la piscina della cartella a ogni ora, ogni secondo, ci mettiamo dentro l'acqua gym, il salto in alto, in acqua e tutto quanto. Lì si cercano anche di creare dei talenti, insomma è sempre stata una piscina di talenti quella piscina, quindi si cercava di fare sport e si cercherà di fare sport nel migliore dei modi possibili, dandolo opportunità a tutti e soprattutto anche di giusti spazi a tutti. Perché non ci si può neanche allenare con 10 persone in una corsia, non è rispettoso per te che vai a fare un'iscrizione e per te che invece vuoi nuotare a Lazio Nuoto e invece sembra di stare a nuotare alla società più importante americana che c'è e crea questi centri dove si va lì per fare chiacchiere, struscio e cose varie. Anche se poi il dubbio parlando appunto dell'assessore mi viene perché se il ruolo della politica dovrebbe essere quello di tutelare, soprattutto il cittadino è un servizio fondamentale per il territorio. No, assolutamente, non solo, diciamo mi sembra che sia quello dell'ottavo municipio. L'ottavo municipio abbiamo addirittura riscontrato la vicinanza più possibile da parte del Movimento 5 Stelle. Lo stesso movimento appunto del Comune di Roma che caratterizza questo bando, abbiamo trovato vicinanza del PD, abbiamo trovato vicinanza in consiglio regionale proprio bipartisan dal PD alla Lega, a Fratelli d'Italia, a Forza Italia. Lo stesso al Comune di Roma, cioè questa è una vicenda che, sai, io sono per le battaglie giuste, non solo perché sono il capitano della Lazio, ma significa che devo per forza difendere la mia società. Se una battaglia non la ritengo giusta, mi stuzzitto magari perché è la mia società, però non intervengono, scendo al campo, non mi schiero anche magari con una professione che dovrei appunto starne un po' fuori. Invece ho fatto tutto questo, sì perché sono il capitano, ma soprattutto perché questa, cioè non ne vale la posizione di Federico Colosimo, qua ne vale la posizione di chi ha fatto la storia della Lazio e di chi vorrà fare la storia della Lazio e soprattutto dei ragazzi di oggi e del domani. Questo Federico Colosimo fra un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni, appende la carottina del chiodo, si è divertito, ha fatto qualcosa, ha fatto e continuerà a fare la propria professione. Ma qui c'è di mezzo, cioè la Lazio Nuoto non è Federico Colosimo, è una nazionale società che fa sport dal 1900, da 120 anni quasi. È allucinante che tutte le forze politiche sono schierate da una parte, il comune da una parte e non si riesce a cambiare sto bando, bene detto, o a mandarlo deserto in qualche modo, in modo di rifarlo. No, infatti c'è stato proprio detto che purtroppo, purtroppo, ormai non poteva essere mandato deserto e appunto ormai la Stata era quello, però sono tutti convinti, anche l'assessore, che la Lazio appunto si aggiudica dal bando. Ma noi invece non ne siamo assolutamente così convinti. Ripeto, comunque eventualmente non la potremmo chiamare una vittoria di Pirro, ma quasi, perché comunque la Lazio da questa vicenda ne esce inevitabilmente con le ossa rotte. Speriamo che ne esca comunque con la sua piscina, ma con le ossa rotte. E questa è una cosa che purtroppo i tantissimi, anche la stampa che c'è stato vicino, sì, è stato dato grande risolto a questa vicenda della piscina, è davvero, questo è emblematico perché anche tanti giornali, che poi lo sapete meglio di me, hanno degli schieramenti, a destra, a sinistra, al centro, al giù e al nord, ma comunque tutti quanti, diciamo, hanno notato le criticità di questo bando. Però purtroppo secondo me, a mio avviso, è stato rimarcato poco il fatto che comunque andrà, anche in caso la Lazio dovesse mantenere la piscina, comunque diciamo che se prima uno aveva da destinare X all'anno per lo sport, si ritroverà comunque costretto a destinare Y, questo è poco ma è sicuro. Certo, comunque Vada ha creato comunque un danno. Sì, 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 poi certo, speriamo che oltre il danno non arrivi anche la besta, perché sarebbe la vera emblematico. Per invece tornare, si dice, al calcio giocato, come si dice, per tornare alla palla bagnata, la Lazio si è comunque quest'anno andati a fare la final eight di Coppa Italia, nonostante comunque il risultato, l'avversario di livello che era il Breccia, comunque penso che sia un orgoglio comunque aver partecipato alla final eight. No, assolutamente, anche perché personalmente ne avevo già giocate due, ma fare la terza è sempre stato bellissimo, anche emozionante, nonostante appunto un'età non più giovanissima, è stato bello anche vedere ragazzi giovani come i miei compagni affrontare un evento così importante che appunto abbiamo affrontato con due essenze fondamentali, come quella di Cannella che è il nostro, diciamo, top player e Maddaluno che appunto a breve partirà per, diciamo, un master's universitario, post-università e quindi comunque abbiamo un resto addirittura per due tempi, stavamo tre e tre, poi siamo inevitabilmente crollati, ma comunque venivamo da una settimana di carichi, anzi da settimane di carichi importanti, di lavoro, perché adesso appunto noi siamo a un passo dalla salvezza diretta, a un passo. Potrebbero bastarci addirittura questi punti, ma non ne siamo convinti.